Tu telefoni a tuo marito e gli dici Amore, ho fatto un incidente con la tua macchina nuova. Lui non è che perde l'interesse. Anzi, vuole sapere che cosa è successo, di chi è la colpa, che cosa si è fatta la macchina. E il momento più interessante sarà vedere come reagirà davanti alla macchina distrutta. Quello è il momento che Omero chiama del patos. E tuo marito della sfigas. Tuo marito buttato sul cofano che piange. Alla stessa notizia una donna reagirebbe in maniera completamente diversa. Se ti telefona tuo marito e ti dice Amore, ho fatto un incidente con la tua macchina nuova, ma non ti preoccupare, non mi sono fatto niente, ma comunque passa in ospedale e mi accompagna Paola. Ma chi è essa Paola? Perché il nostro punto di vista è differente. Grazie. 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 Grazie.